Non era bene. Sono valvolato per quando l'esercizio e hanno seguito il proletto. Quando l'esercizio era un contratto studiare, aveva qualche lavorante che si preghi da inizio, che veniva nostra, la prima, e gli ha domandato, se non ci faceva il esercizio, gli hanno spiegato il quattro, che dovrebbe essere il quattro, che dovrebbe avere un problema, da un panorama, da un posto. E allora, ci ha fatto bene di mettere le altre, le tiglie, le tiglie, di sedia e di posizione. Mettendo però, in rapporto, il contrario di quello che fa il terzo. Precisa, nonostante il terzo, normalmente, per fare più o meno, il sedia è un mese di posizione. E quindi, andiamo a cercare il terzo, per avere il terzo.